Notiziario del commercio. Enna in mostra. La manifestazione prevista per il mese di ottobre proposta alla Camera di Commercio dall'Organizzazione di Cattoria subisce un piccolo stop. Bisogna, su richiesta della Camera di Commercio, migliorare la progettazione di questa iniziativa importante. Si è già proposto di slittarla nel mese di dicembre. In questi giorni si sta proprio lavorando sul progetto affinché venga messo in atto quelle che sono le misure correttive previste dalla Camera di Commercio affinché questo progetto possa diventare un importante evento per il nostro territorio. Vi parlerò dei tirocini formativi previsti dal programma di Italia Lavoro, Apprendistato e Mestiere e Vocazione Artigianale. È partito già il bando per i tirocini formativi che sono rivolti a giovani laureati di età compresa tra i 24 e i 35 anni non compiuti che abbiano una laura o un diploma universitario, sia di vecchio ordinamento che una laura triennale. Questi tirocini sono rivolte a più di 3.000 giovani nelle regioni di interesse, di cui 200 in mobilità. Per precisione in Sicilia 860 giovani laureati potranno avere accesso a questi tirocini. I giovani che intendono candidarsi a un tirocino devono registrarsi sul portale www.clicklavoro.gov.it, indicando in un'apposita casella nel modulo di registrazione l'addizione N2ET, inserendo i propri dati e il proprio curriculum vita e candidarsi ai percorsi di proprio interesse presenti in quel momento sul portale nell'area dedicata all'avviso. A partire da quel momento aziende relativi i candidati potranno contattarsi reciprocamente e avviare in via autonoma il processo di selezione. Le aziende già dal 9 settembre hanno iniziato a candidarsi per accogliere i tirocinanti, quindi ci sarà una vasta gamma di possibilità di aziende che possono ospitare i tirocinanti. I giovani dal 23 settembre alle ore 12 potranno candidarsi cliccando sul sito www.clicklavoro.gov.it. Il compenso previsto per i tirocinanti è pari a 500 euro, saranno di due tipi, ci saranno 860 tirocini in loco, mentre 54 tirocini in Sicilia potranno essere in mobilità. C'è una differenza di compenso, quelli che sono in loco è previsto un compenso di 500 euro a tirocinante, per quelli invece in mobilità il compenso chiaramente è superiore ed è previsto al 1300 euro. Come viene erogato il compenso? La borsa è riconosciuta al tirocinante all'ordo di eventuali ritenute di legge e di ogni altro eventuale onore accessorio ed è erogata a cadenza periodica a condizione che il tirocinante abbia maturato almeno il 70% delle ore e mese previste del progetto formativo. Il pagamento della borsa avverrà entro la fine del mese successivo a quello di compimento del mese di tirocinio. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 70% delle ore e mese previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti né di tali lavoro che è soggetto proponente, né dal soggetto ospitante, quindi dall'azienda. La borsa di tirocinio non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi. Pertanto, essendo un'iniziativa di grande importanza, io invito tutti i giovani laureati a cominciare a documentarsi sul sito di Italia Lavoro o sul sito cliclavoro.gov.it affinché giorno 23 si sia pronti con la documentazione necessaria, quindi il curriculum vita, il certificato del diploma di laurea, eccetera, quello che viene richiesto per essersi candidati a questa tipologia di progetto. Tribunale di Nicosia, purtroppo la protesta a quanto sembra non è servita a nulla. I cittadini di Nicosia chiaramente continuano nel provare a individuare quali possono essere altri percorsi che possono venire a crearsi per questa brutta situazione che si viene a creare sul territorio. Sappiamo bene che non possiamo pretendere di non far togliere dal territorio quelle infrastrutture, soprattutto quando c'è una legge nazionale che determina la loro chiusura, però è anche vero che, come dicevamo anche nel precedente notiziario, non si può spogliare un territorio senza perlomeno reinserire nello stesso altre iniziative che possono compensare la mancanza di quelle infrastrutture. Nuovo mondo, confesarcenti. Vi parlerò adesso di una nuova iniziativa avviata dal meeting di Perugia della confesarcenti, una nuova realtà telematica di servizi alle imprese dedicate ai soci. Il percorso che si intende svolgere con questa nuova iniziativa di confesarcenti è quello di dare alcuni servizi telematici alle imprese di completamento a quelle che sono le loro attuali condizioni per favorire migliori scambi commerciali e migliore formazione direttamente online presso la propria azienda. Invito tutti coloro che volessero, tutti i nostri associati di confesarcenti che volessero avere maggiore delucidazione a contattarci presso la nostra sede. Grazie per l'attenzione, al prossimo notiziario.